Per una volta il tè londinese delle 5 può attendere il rigoroso abbigliamento ginnico, giubbotti neri per schermarsi dall'umida serata di venerdì 20 novembre, un gruppo di giovani sosta in piazza Vittorio Emanuele. Ci avviciniamo. È la squadra dell'Erne Bay United. I volti allegri, ridono e scherzano tra loro. Quale ghiotto occasione per le telecamere della nostra web tv. Non è in programma un allenamento, ma un giro nel centro storico della nostra città. Gli onori di casa alla squadra d'oltremanica li fa l'assessore al turismo Gaetano D'Agostino. Pronti? Via! Piazza Costantinopoli accoglie gli inglesi come in un abbraccio. Il giro prosegue per la cattedrale, che i graditi ospiti hanno modo di ammirare in tutta la sua magnificenza, non solo dall'esterno, ma anche all'interno. Non si lasciano sfuggire nessun dettaglio. I mosaici, le decorazioni barocche, le tele, l'icona della nostra protettrice. Osservatorio privilegiato da cui apprezzare un incantevole panorama by night e la vedetta sul Mediterraneo. Lo specchio d'acqua del porticciolo, le mura aragonesi e il torione regalano agli inglesi una cartolina virtuale da talare con la digitale. C'è ancora tempo per una visita al Palazzo Ducale e a Piazza Meschino, prima di avventurarsi nei meandri dei suggestivi vicoli del nostro centro storico, autentica attrattiva per i ragazzi dell'Ernebei, che, divertiti, indugiano nelle strettoie percorrendo le più volte. Terminato il giro, i ragazzi si concedono al nostro microfono. Ringraziano per l'ospitalità ricevuta. Della visita turistica dicono di aver molto apprezzato la nostra città. A livello culinario, due specialità ricorderanno della nostra terra. Come abbiamo sentito, pasta e salsiccia la fanno da padrona. Inevitabile chiedere della partita contro l'AFP, gara che sperano di vincere dopo un abbondante riposo. Li lasciamo solo dopo aver posto anche a loro la domanda tormentone. What do you think about Pino Marzella? What do you think about Ernebei United? Eh? What do you think about Ernebei United? Eh? So what do you think about Ernebei United? Are they very strong? No. I think... No. I think... Eh... Eh... Eh...